Estate in città 2011 continua Pordenone con tantissime iniziative. Diverse sono le manifestazioni sportive in calendario. Il velodromo cittadino ha ospitato dal 26 al 29 luglio i campionati italiani giovanili su pista e la tre sere internazionale città di Pordenone, importante appuntamento organizzato dall'associazione Amici della Pista. Ai nostri microfoni il sindaco di Pordenone Claudio Pedrotti molto attento alle numerose iniziative sportive della città. Sono state delle giornate veramente eccezionali, grandissimo livello sia nella parte giovanile che nella parte professionistica. Pordenone è una città che ama questo tipo di sport e mi sembra che l'accoglienza, gli impianti sportivi, la qualità di quello che è stato offerto è a testimonianza di questo. Una lunga tradizione che noi sicuramente continueremo. La spettacolarità poi di alcune gare è stata, io sono andato anche ieri sera proprio così, come un comune spettatore per godermi l'americana e gli 80 giri. Insomma, sono cose che secondo me raramente si possono vedere in Italia. Quindi è un bilancio estremamente positivo. Rilancieremo questa iniziativa. La pista Bottecchia deve essere utilizzata proprio per quelle sue caratteristiche di qualità a livello non solo nazionale ma a livello mondiale. E quindi questo è uno dei punti forti della città dal punto di vista sia dello sport come spettacolo ma sia come sport praticato. Grazie. Grazie a tutti